Opere pubbliche da 7 milioni e mezzo di euro e questo il piano cantieri a Chieti dell'amministrazione di Primio che prorogata per almeno sei mesi a causa del coronavirus ha dovuto programmare tutta l'annualità. Sette interventi prioritari però sono a rischio perché per poter essere finanziati occorre che il comune riesca a vendere terreni e immobili. Tra questi lavori anche la messa in sicurezza delle scuole rimasta in sospeso dallo scorso anno. I fondi che ci sono stati promessi a iniziare dal governo Renzi in poi sono sempre fondi che in realtà non coprivano neppure una minima parte delle esigenze. Il patrimonio immobiliare, scolastico, comunale, ancor più, ancor peggio, quello provinciale è un patrimonio appesantito dagli anni. Abbiamo però come lo scorso anno fatto anche richiesta di ulteriori fondi europei per poter arrivare alla ristrutturazione delle scuole. Laddove questi arrivassero non avremmo bisogno della vendita dei beni. Il progetto del sindaco in eredità alla prossima amministrazione è quello di una cittadella della scuola obbligatoria, costruendo un nuovo polo dell'istruzione piuttosto che ristrutturare i vecchi edifici. L'idea che io mi sono fatto e che sto coltivando è quella di immaginare delle nuove strutture scolastiche. Cioè non vale più la pena a volte ristrutturare l'esistente ma forse vale di più iniziare ad adottare un criterio di campus della scuola pubblica dove mandare i nostri figli dal nido sino alle scuole medie. Abbiamo individuato un'area dove questo si può fare, abbiamo individuato le scuole che potrebbero confluire in questo nuovo campus dell'istruzione obbligatoria. Questo progetto dovrebbe essere finanziato tramite privati con l'intervento di alcuni imprenditori. Un progetto di finanza dove il privato avrebbe in cambio di un canone minimo e della permuta eventualmente delle vecchie strutture che potrebbero essere ovviamente riconvertite ad altro uso, demolite, riconvertite, riutilizzate come volumi. In questo caso il comune avrebbe delle strutture nuove, efficientate sotto il profilo termico, sicure sotto il profilo sismico e soprattutto con dei criteri di qualità che le vecchie strutture, per quanto affascinanti voglio dire, non riescono a garantire. Chieti inoltre utilizzerà i fondi per lo sviluppo urbano sostenibile, per acquistare mezzi ibridi, fare percorsi pedonali e trasformare l'ex pescheria in un centro culturale, nonché 300 mila euro per una rete wifi comunale. Mentre 4 milioni approvati nel master plan della regione andranno a finanziare la filovia che collegherà Chieti Alta all'Università d'Annunzio. Ci sono anche nell'annualità 2020 delle nuove opere, tra le quali il completamento della rete filoviaria, quindi ci consentirà di avere la più grande rete abruzzese di trasporto pubblico totalmente elettrificato. C'è la filovia che verrà completata, ma nell'annualità 2021 ci sono già stanziati 15 milioni di euro per la realizzazione del funicolare tra il polo universitario e ospedale.